Due cecchini. Chi è Lincoln? Nessun errore è concesso. Era quello con maggior talento. Ma a nessuno è mai piaciuto. Oggi vieni rilasciato. Solo il migliore sopravvivrà. Per diventare il top shooter, impara a trattenere il respiro. Vuoi davvero sfidare la polizia di Hong Kong? Ti stiamo aspettando. Per il ciclo missione estremoriente. Dobbiamo fermarlo. In prima visione assoluta. The Sniper. Martedì alle venture 10. Su Rai 4.